bella a tutti dal vostro criminal set game ragazzi siamo tornati oggi su PES 2020 siamo tornati con l'aggiornamento Arsenal ci sono tre giocatori di cui a me interessa solo Bergkamp da ex interista e girerò solamente i giri gratis per vedere cosa succede detto questo ragazzi vi do un consiglio che sembrerà una cazzata ma magari provatelo può essere efficace quando voi andate a spacchettare le icone mette secondo me la squadra della propria delle proprie icone che ci sono quella quel giorno aiuta a sculare secondo me non so una cazzata magari ragazzi però secondo me ci sono degli algoritmi essendo un gioco fatto da determinati algoritmi secondo me potrebbe essere di aiuto andiamo a spacchettare i giri vediamo un po cosa ci leggenda ragazzi leggenda lo vedete leggenda col giro gratis dimmi che Bergkamp ho vinto ho vinto e a lui ho vinto Bergkamp al primo colpo ragazzi col giro gratis maschuno crimina ragazze unico al mondo ma cosa di cosa parliamo ragazzi ma di cosa parliamo ragazzi ho cambiato la maglia e mi ha dato Bergkamp ma di cosa parliamo ragazzi sculo crimina è unico al mondo questo lo dedico a diego per fargli capire quello che dicevo ieri non ne sono i 200 euro apposta da ladriano e per fare determinate situazioni ci sono algoritmi fratello che c'è un cazzo da fa e adesso andiamo a vedere pure prima di tutto le statistiche 99 controllo palla 92 comportamento offensivo 93 passaggio verso terra 85 calci piazzato 88 potenza di tiro 85 controllo il corpo 7 forma fisica sombraio uso della sola tiro a lontano pallonetto mirato lancio lungo finalizzazione acrobatica tiro prima passaggio di prima passaggio fittante esterno a giro serpentino e tiratore a me Bergkamp ragazzi mi piace da morire ex interista quindi tanta roba e arriva subito al primo colpo vediamo se sculiavo un back to back magari ci arriva un'altra leggenda e non ci arriva un'altra leggenda ci arriva di missi comunque v'ho dimostrato ragazzi ancora una volta che quello che dico purtroppo è vero ci sono delle cose da fare se no le leggende non ve le caga fuori non fa niente tre giri gratis abbiamo preso quello che volevamo prendere e per me siamo a posto così detto questo ragazzi vi invito a iscrivervi su tutti i miei social criminal7gamer su twitter su instagram su facebook alla pagina criminal7gamer alla nostra pagina dove sono socio insieme a manuele baldacchini e christian nylander per se esports iscrivetevi su tiktok tutto quanto al nome di criminal7gamer se volete mandare l'amicizia mandare l'amicizia a criminal7gamer e detto questo ragazzi vi ho dimostrato che Bergkamp è arrivato lo sculo criminal non fallisce mai e spero che anche voi oggi usate lo sculo criminal che lo sculo criminal sia con voi bella rega grazie a tutti